Stanco di lavorare sotto stress? Vorresti eliminare completamente tutto il dialogo analogico con le aziende clienti, riducendo così tempi ed errori da inserimento manuale? E se potessi offrire anche servizi a valore aggiunto? Team System HR consente di fornire anche alle aziende clienti di piccole dimensioni i servizi di un HR office. Con il suo esclusivo perimetro All-in-One e una User Experience Mart, è possibile garantire la copertura di servizi strategici in modo semplice e intuitivo. Anche in Smart Working, Reporting, KPI, Dashboard ed HR Analytics vengono offerti senza sforzo aggiuntivo da parte del consulente alle aziende clienti perché scaturiscono automaticamente dal normale lavoro quotidiano. Team System HR consente al consulente di fornire un dato aggiornato H24 sia per l'azienda sia per il dipendente, anche la notte. Attraverso dossier telematici, il dipendente aziendale potrà avere tutta la documentazione a lui attinente, a portata di mano, su desktop o tramite Apple Mobile. Hai ancora dei dubbi? Provalo! Grazie a tutti!